Nome. Marco. Nome. Margherita. Cognome. Romano. Cognome. Garofalo. Sesso. Maschio. Sesso. Temmina. Tre aggettivi per descrivere la tua amica? Bona. Bassa. Fessa. Tre aggettivi per descrivere il tuo amico? Alto. Scemo. Deficiente. Un suo difetto? Acida. Un suo difetto? Troppo buono. Tre due. Chi è più intelligente? Tre due. Chi è più intelligente? Chi ha scritto il 5 maggio? Se dico Paolo e Francesca? Dante. La divina commetta. Il suo colore preferito? Giallo. Una cosa che non gli hai mai detto? Ti amo. Una cosa che non gli hai mai detto? Ti amo. Ma siete amici? Sì. Siete amici? Sì. Qualcosa in più? No. Qualcosa in più? No. Dimostrazione di affetto? Amore di mamma. Da quanto tempo vi conoscete? Oh cacchio. Un mese? Un mese a mezzo? Da quanto tempo vi conoscete? Due mesi? Fumi? Sì cari. Fumi? No. Spacci? Sì. Giochi? Spacci? Non ancora. Dopo che tua madre vedrà questo video dove ammetti che fumi, cosa penserà? Mi ha visto fumare tranquillamente. Cosa penserà tua madre? Che sto per spacciare? Niente. Cosa volete dire a Barry Blue? Vi prego, mettete McDonald's, è un cinema. Io non posso andare sempre a Mungivac. Cosa volete dire a Barry Blue? Di mettere più negozi di vestiti per ragazze. Cosa pensi di ottenere con questa intervista? 500 euro. Cosa pensi di ottenere con questa intervista? Almeno 500 o 100 euro. Salutatevi. Ciao a lui. Ciao. Un saluto particolare a me. Ciao, sei bellissima anche tu. Un saluto particolare a lui. Ciao, sei molto simpatico. Grazie. Ciao.